... ... ... ... Ah, ecco, adesso sì che mi... ...desso mi dice, sì che mi dice, allora... Ma Colombo sta cagando... ...a mettere il super esempio... ...ecco chi è cagato il super esempio, Colombo... Manu cornuto! Manu usa la pompetta! Non ti appoggiamo, sei scego! Oh c***o, figa! E non c'è tuo papà, perché mio papà dà dei robini neri, capito? Vabbè! Due ragazzi che mi hanno salutato, che c***o mi saluti, coglione! Dillo tu! No, no, no! E' un bestemmiato, basta! Che t'agraio però! Questo è tutto quello che posso, lui mi fa, ha guardato su che foto e fa Ma è scaduto! Ma ti pare che cosa scaduta? Esatto, libertacci qua! Orco 2! Vai, tanto non tolto la bestemmi offenderia! Ah, è vero che è quello! Indipendato! Mi ha detto che c'era lo stesso nero che tipo, ha detto dai apri, apri e continua a sonare il campanello Quindi questo messaggio lo dedico a te, capito? Mi stai guardando! Va bene, se mi stai guardando! La prossima volta che vieni in casa mia ti raccolgo con un doppietto! E mano, se l'altro la dici anche coloppo! Ma porca, io! No, basta che vieni qua a leccarmelo un po' che... Perché Gesù ha detto tutte le cose che lo farete a questi piccoli, lo farete a me! Quindi, Gesù... Cioè nel senso, ti ho dato il succo, non lo volevi e adesso vediamo se va bene a doppietta! Che faccia di cazzo! Samu viene e se ne va poi! La domenica, dici vabbè, il Guantanamo è chiuso, non c'è parcheggio, vabbè, arrivi Tarry sono cavoli qua! Brutta zocca! Manu! Crociola di Manu! Sono arrivato qua i coglioni, proprio i coglioni! Che cazzo mi guardi così, se mi faccio da Ibete? In diretta! Non dico niente! E se non devo dire niente, vuol dire che è proprio... Un sciaman! Samu è un picchino! Samu! Sei di pionde che cazzo devo farci? Mi piace il cazzo! Oltre alla gente col corpo d'uomo nella testa di cazzo! Sono le tre, Figaro, arrivo lì, là è pieno! E un coglione dietro a culo con il Fremont! E mi fa... E vado a te cazzo! E c'era tanto così di posto! Guarda vado indietro! E questo qui... Sgasa! Sono atti atti non proprio con se nell'oratorio là sotto! Non voglio aggiungere altro! Atti sessuali consumati in topaia! Io ho visto tutto! Samu! Quello che ce l'ha grosso! E metto la macchina dove c'è quella di Luis di BF così! Sono arrivato cattivissimo! Cattivissimo! Ho chiuso! Ho chiuso! Era lì! Non si vede perché... Devi abbassarti! E che cazzo mi guardi? Che cazzo vuoi? Ho chiuso la macchina e me ne sono andata e vaffanculo! Se gli diceva qualcosa gli... Gli spaccavo il culo! Cazzoni! INDIA GO! C'era... C'era... Samu sopra a mano, una cosa così no? Non dormirò stanotte! Questo è un posto di merda! Minchia quanto è difficile fare il mafioso! È un posto di merda! È un posto di merda! Oh!